Sono Mauro De Nicola, direttore di Villa Pace Parco Hotel Bolognese, struttura che prende il suo nome da almeno cieli storici, fanno risalire il suo nome a un periodo post caduta della Repubblica Serenissima, il momento in cui le fazioni opposte cercavano un punto di riferimento per discutere una location, per discutere accordi di pace e sembra che quella location fosse la nostra e quindi il Villa Pace, quindi il luogo dove si creavano questi momenti di pace e di chiusura delle varie guerre, fosse esattamente quello che è oggi Villa Pace Parco Hotel Bolognese. Il Parco Hotel perché la struttura è un albergo, quindi è un hotel, Hotel Park perché abbiamo una splendida e rigogliosa parco davanti alla struttura che arriva direttamente al terraglio, Bolognese perché all'inizio la struttura è stata, quando diciamo nei primi anni 60 è ritornata da essere viva e riposizionata sul mercato, è stata presa, gestita e diretta da una coppia di Bolognesi che si sono occupati della ristorazione e proprio per la tipicità della cucina bolognese ha preso il nome, quindi la composizione Villa Pace Parco Hotel Bolognese ha questo tipo di motivazioni. Ad oggi l'albergo è un albergo che nasce grazie agli investimenti della famiglia Semenzato, in modo particolare dal signor Luciano Semenzato che nei primi anni 80 ha deciso di acquistare e iniziare un po' di lavori di ristrutturazione fino ad arrivare in realtà negli anni 2000 dove la struttura è stata definitivamente riposizionata in albergo, con la prima parte all'interno di quella che era la parte storica della villa, con 12 camere che ancora chiamiamo villa, e con successivi poi ampliamenti di più o meno altre, non più o meno di altre 75 camere per far arrivare la struttura ad oggi ad avere un potenziale di 95 camere, un ristorante aperto anche agli esterni che può ospitare fino a 150-180 persone, una sala congressi molto utilizzata per meeting, eventi, congressi di vario genere, può ospitare fino a 250 persone e una piscina esterna solo estiva, una piccola area relaxa ma molto curata e molto intima che appunto vendiamo, proponiamo anche a clienti esterni per un'ora e diventa una zona riservata ad uso esclusivo. questo è quello che in questo momento vi è la pace bolognese. Grazie.